Partendo da Altavilla, Irpina ha attraversato la storia d'Italia. 49 anni di servizio nell'arma, da sottotenente a generale di corpo d'armata. Lo avete capito, lo annunciavo in apertura, va in congedo il comandante interregionale dei Carabinieri, Vittorio Tomasone. Ben trovato. Grazie, grazie. È un po' tempo di bilancio, è quasi mezzo secolo al servizio del Paese. Beh sì, anche se il bilancio di una vita non è un conto economico, quindi è un bilancio di sentimenti, di rapporti, di conoscenze, di attività svolte, sempre al servizio. Lei è stato veramente un po' ovunque impossibile, adesso in tre minuti, però Napoli, Pozzuoli, Chieti, Latina, Roma, Palermo, Emilia Romagna. A Napoli dal 79 per 13 anni, 13-14 anni, insomma ha lasciato il segno, inchieste importantissime sulla Camorra, ma anche i Tangentopoli. Quanto Napoli resta, diciamo, importante nella sua carriera? A Napoli mi sono formato come Carabiniera, tutto quello che ho fatto a Napoli, ho imparato a Napoli e poi mi è servito per il resto dei miei anni di servizio. Alla Nunziatella, diciamolo. Ma sono di cultura napoletana, qui ho frequentato la scuola militare, Nunziatella, ci sono tornato da ufficiale, nei vari incarichi, tutti tra loro diversi, particolari, ma che mi hanno messo sempre a contatto con la città e con i suoi problemi, ma anche con le sue bellezze. E' tornato a Napoli due anni fa, al comando interregionale, quanto ha trovato cambiata la città e soprattutto la criminalità organizzata, perché è cambiata, no? Ma io ho un osservatorio privilegiato e non è una presunzione. Ho lasciato Napoli e dopo 25 anni l'ho ritrovata sicuramente con note di miglioramento molto significative. Una città più viva da un punto di vista artistico, culturale, meta di turismo. Prima era difficile che si vedessero tanti turisti per la città. Quindi significa che Napoli ha anche saputo meritare il momento in cui i grandi centri urbani nel nostro paese hanno attraversato anche periodo di minore splendore, ha saputo trovare dei motivi per poter migliorarsi. Certo, però la camorra c'è, questo è innegabile, magari anche sotto forme diverse, è meno strutturata, però diffusa, agisce in maniera diversa. Ecco, ecco, io ho lasciato da comandante del nucleo investigativo di Napoli una camorra molto strutturata. L'ho ritrovata frammentata, parcellizzata, non meno pericolosa, era meno strutturata rispetto al passato, ma sicuramente sempre con l'occhio al grande traffico e ai grandi quadagni illeciti. Lei ha detto tempo fa, l'ho letto in un'intervista, che a Napoli servono più maestre che carabinieri. Ma ne sono convinto. Quando si vedono reati o condotte comunque da condannare ad opera di ragazzi, di bambini, e allora io dico che ci vogliono sicuramente tanti carabinieri, però ci vogliono anche tante maestre elementari, perché è da una cultura che poi si passa anche a un comportamento civile della vita. In conclusione il suo augurio per questa città? In questa città che tutti noi dobbiamo imparare a seguire ogni sorta di regola, non sceglierci le regole, ogni regola va osservata, e non pensare che tanto succedono cose molto gravi, per cui tanto vale la pena di non impegnarsi su altro. Credo che Napoli debba continuare su una sensibilità maggiore dei suoi cittadini, affinché possa veramente prendersi il ruolo che la storia, la cultura le hanno sempre assegnato. Grazie allora dell'augurio, grazie generale. Grazie a voi.